Meno treni sulla linea Mantova-Cremona-Milano grazie alla soppressione delle fermate minori e alla loro sostituzione con i bus. Ecco l'avvenire che il direttore dell'Agenzia di Bacino del Trasporto Pubblico Locale, Claudio Cerioli, ha prospettato ieri nella commissione viabilità del comune di Cremona per i pendolari. Da un lato Trenord si prepara a tagliare, mentre la nuova Agenzia di Bacino-Mantovana, dalla quale Cremona dipende, aumenterebbe i bus sempre che i conti tornino. Ipotesi poco auspicabile per Dario Balotta di Legambiente e Lombardia, visto che i bus sono più lenti dei treni e che di conseguenza la sostenibilità economica della linea ferroviaria si farebbe molto difficile. Invece del raddoppio della ferrovia Cremona-Mantova, promesso dal governatore Roberto Maroni, il futuro sono i tagli, sempre che la verifica tecnica e economica lo confermi. Si perderebbero treni verso Fidenza per viaggiare inoltre da Cremona-Piadri nei bus e poi proseguire in treno verso Mantova. Il comune di Cremona essenzialmente si distingue per aver incassato un milione di euro dalla vendita delle quote di KPM al gruppo Arriva, privatizzando al 100% l'ex partecipata, anche se la stessa amministrazione Galimberti raccomanda l'uso dei bus per abbattere l'inquinamento atmosferico. Ieri Renato Fiamma, del gruppo Misto, ha chiesto una fermata vicino al carcere, accanto all'ospedale maggiore, e Lucio Lanfredi dei Cinque Stelle ha proposto di creare fermate nelle aree industriali per i lavoratori, mentre da anni le corse si fermano al centro commerciale penalizzando le periferie. L'idea è legata alle statistiche di KPM. Il 44% dei passeggeri ha età compresa fra i 25 e 65 anni, i lavoratori sono il 22%, le donne sono oltre due terzi dei viaggiatori, uno su tre invece ha meno di 26 anni. Altra proposta grillina sono i bus per raggiungere l'aeroporto di Linate e Malpensa nei periodi di maggiore frequenza per le vacanze estive. Sono le complicazioni dei percorsi dei bus di Cremona, che passano in corso mazzini da dove vengono deviati e assenti nelle periferie dove sono desiderati per le contraddizioni far bus di città e di provincia. I tagli al trasporto pubblico si sentono anche a Picenengo, altra periferia cremonese isolata. Uno studio del Comune sulla domanda di trasporto pubblico nelle aree industriali, svolto alcuni anni fa, è rimasta però lettera morta. Alla riunione di ieri ha partecipato anche Elena Colombo, direttrice di KPM, che farà i conti con le pesanti preoccupazioni manifestate dai sindacati. I posti di lavoro dipenderanno dal bilancio ancora più di prima.